Massimo Castagnari è iniziata la preparazione della compagnia portuale in vista del prossimo campionato di promozione, che cosa ti aspetti da questa stagione? Di lavorare, di lavorare subito, è bene, è normale che le aspettative su di noi sono tante, è normale che veniamo da una goderia superiore e ritorniamo a fare il campionato d'appartenenza di due anni fa, che lo vincemmo. Vincere non è ma facile, arrivare uno, come diceva un amico mio, è sempre difficile, sicuramente quando ci sarà la composizione di Gironi magari si avranno le idee più chiare delle squadre che praticamente punteranno alla vittoria finale. Da quello che si vede alle proiezioni sicuramente sarà un campionato difficile, soprattutto nelle trasferte, anche perché da come ho visto di campi sintetici ne saranno pochi, è un po' una cosa inusuale. Negli ultimi anni i campi di terra e i campi d'erba si contavano sulle tira di una mano, sicuramente saremmo avvantaggiati magari nei turni casalinghi, però prima di parlare campionato è normale, ieri abbiamo iniziato, ci sono tanti giovani nuovi che dobbiamo farli diventare da subito importanti, le amichevoli importanti che abbiamo praticamente predisposto per questa preparazione sono di caratura superiore. Il tuo giudizio invece sui nuovi arrivi e pensi che la rosa sia già rinforzata adeguatamente oppure serve ancora qualcosa? No, sicuramente manca ancora un qualcosino, soprattutto nella quote under, come dicevo, dobbiamo vedere come giochiamo, sicuramente ci sono giovani di prospettiva a cui si chiede subito di essere importanti, quindi vediamo un attimino all'opera per i grandi, tutte persone e giocatori che sono praticamente protagonisti in questi campionati da anni, quindi per questo la società, quindi nella persona di Sergio Vesutti e Patrizio Vesutti, sempre sotto la regia di Rico Luciani, hanno voluto ripartire subito con grosse ambizioni. Adesso spetterà a me, al mio staff, quindi Massimo Gnaudi Luca e Massimo Vizzi di portare praticamente la nave dove la società spera di arrivare.